Le parole sono una cosa importantissima, sono misteriosissime, hanno un'energia propria, hanno viaggiato a lungo nel tempo e sono arrivate fino a noi, quindi il modo in cui noi le utilizziamo è importantissimo per la nostra vita. La scrittura è un modo di utilizzare questa grande energia che è racchiusa all'interno delle parole, combinandole e seguendo il flusso della nostra anima. La bellezza delle parole è un format ideato da Nicoletta Cinotti, che è una psicologa, psicoterapeuta e ha creato questo, che è un vero e proprio format, perché unisce tantissimi professionisti in diversi ambiti della scrittura per poter offrire comunque un paesaggio, un panorama il più possibile esaustivo di quello che vuol dire scrivere. Scrivere è inteso non solo come espressione letteraria o creativa, ma proprio come espressione della propria anima, conoscenza della propria mente, perché quando noi scriviamo inevitabilmente abbiamo una rappresentazione fisica del nostro mondo interiore. Sono molto felice di essere stato invitato da Nicoletta Cinotti in questo workshop totalmente dedicato alla scrittura e anche alle parole. Scrivere è un'attività che non è giusto relegare soltanto nella pratica degli scrittori o dei professionisti, è qualcosa che ci permette di esprimere e di sentire e di leggere la nostra anima, è veramente uno strumento di accesso al nostro inconscio e quindi può essere utile farlo anche abbastanza regolarmente. In questo incontro parleremo di parole, parleremo della bellezza delle parole, parleremo di scrittura, di creatività e lo faremo da molte angolazioni, perché quello che Nicoletta Cinotti è riuscita a creare è l'originalità di questo incontro e proprio nel fatto che ci siano professionisti o comunque artisti che a diverso titolo usano le parole e la scrittura nella loro attività.